Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Krixx e oggi ragazzi sono qui tornato su GT5 Online in cui vi mostrerò come poter avere il borsone delle rapine su qualsiasi completo Ragazzi vi avevo già portato nelle patch precedenti dei glitch su come avere questi borsoni delle rapine e in particolare oggi vi mostrerò come poter avere il borsone delle rapine nero quindi diciamo l'ultimo borsone ovvero il più tamarro e vi mostrerò anche come poterlo trasferire su altri frosti completi appunto per poi andarli a salvare Prima di iniziare ragazzi vi invito semplicemente a lasciare un mi piace e vi ringrazio in anticipo per i 1800 iscritti Ragazzi ultimamente stiamo salendo veramente tantissimo e di questo sono veramente molto contento e niente mi raccomando continuate sempre a supportarmi come state facendo ultimamente e direi che possiamo anche iniziare subito con il video Per fare questo glitch avrete bisogno di un amico e avrete bisogno anche del colpo sbloccato il primo colpo ovvero il colpo all'Africa quindi la prima cosa da fare è andare in GTA Online in una sessione solo ad invito quindi invitare un vostro amico una volta che il vostro amico si sarà unito dovete semplicemente avviare il colpo all'Africa di Lester Attenzione però perché non dovrete avviare il colpo ovvero le preparazioni ma dovrete appunto avviare il colpo finale quindi vi consiglio comunque sia se non l'avete già sbloccato di appunto completare le preparazioni per il colpo e successivamente al colpo finale appunto avviare la missione quindi la prima cosa da fare è appunto avviare questa missione quindi una volta che esserete nella lobby dovrete invitare un vostro amico nelle impostazioni della lobby dovrete semplicemente cambiare soltanto gli abbigliamenti colpo quindi gli abbigliamenti colpo dovrete impostarli su predefiniti quindi una volta fatto ciò invitate un vostro amico e avviate l'attività una volta che sarete nella lobby della scelta dei ruoli chi dovrà fare il glitch quindi chi dovrà appunto avere il borsone dovrà essere il trapanatore questo mi sono dimenticato di dirvelo ragazzi quindi chi dovrà fare il glitch nei ruoli dovrà avere il ruolo di trapanatore e quindi mi raccomando appunto cercate di non sbagliare e non confondervi mentre appunto chi non dovrà fare il glitch dovrà essere il guidatore quindi una volta scelti i ruoli giusti potete avviare l'attività una volta che avvierete l'attività appena sponerete dovrete semplicemente tenere premuto il touchpad su PS4 e quindi andare su inventario e successivamente dovrete andare su visiera casco quindi a questo punto dovrete semplicemente tenere premuta la freccetta direzionale destra per appunto cambiare la visiera casco da aperta o chiusa quindi dovete semplicemente tenere premuto questo tasto per circa 15 secondi una volta fatto ciò dovrete semplicemente appunto continuare a premere la freccetta destra finché appunto non passeranno questi 15 secondi quindi una volta passati questi 15 secondi dovrete fermarvi su visiera casco aperta quindi a questo punto dovrete premere il tasto PS o comunque sia il tasto Xbox One per chi appunto gioca su Xbox One quindi dalla Playstation dovrete appunto una volta che sarete nella lobby di Playstation dovrete praticamente andare su TV e video quindi successivamente aprire l'applicazione di YouTube se non avete questa applicazione vi consiglio appunto di scaricarla prima di fare questo glitch quindi una volta che sarete su TV e video dovete semplicemente andare su YouTube e appunto schiacciare X per avviare l'applicazione di YouTube appena avvierete l'applicazione di YouTube vi dirà l'applicazione di GTA V e vi dirà che se avvierete l'applicazione di YouTube praticamente l'applicazione di GTA V si sospenderà come state vedendo appunto dalla foto e voi su questa schermata dovete semplicemente premere OK una volta fatto ciò vi si caricherà la schermata di YouTube quindi una volta che sarete appunto all'interno della schermata di YouTube dovete semplicemente premere nuovamente il tasto PS e quindi tornare su GTA una volta che tornerete su GTA vi uscirà questa schermata con scritto che appunto la connessione è andata persa in quanto l'applicazione è stata sospesa quindi a questo punto dovete semplicemente cliccare su OK quindi una volta che farete questo praticamente il gioco vi troverà una sessione e appena sponerete nella sessione noterete che sponerete con il vestito più appunto il borsone nero di cui appunto avrete usato nell'attività quindi a questo punto dovete semplicemente andare a salvare il completo quindi a questo punto il glitch è stato diciamo completato correttamente quindi passiamo al secondo glitch che vi mostrerò appunto sempre in questo video allora la prima cosa da fare è andare appunto su GTA online in una sessione solo ad inviti quindi dovete semplicemente procurarvi un elicottero io vi consiglio comunque sia di chiamare la Pegasus per farvi richiedere un elicottero comunque una volta che sarete appunto all'eliporto comunque se avrete recuperato il vostro elicottero dovete salire all'interno dell'elicottero e dovrete diciamo alzarvi quanto più alto possibile ecco dovete andare in alta quota senza però muovermi tra la mappa praticamente e dovete praticamente soltanto alzarvi con l'elicottero come state vedendo nel video comunque una volta che avrete raggiunto una certa altezza dovete semplicemente buttarvi dall'elicottero e senza morire quindi raggiunto diciamo una elevata altezza vi buttate e a un certo punto aprite il paracadute premendo semplicemente X o A su Xbox One quindi una volta che avete aperto il paracadute dovete semplicemente aprire il menu interazione andare su stile e successivamente dovete selezionare il completo a cui volete passare il borsone una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che prima di salire nell'elicottero dovete semplicemente avere il completo con il borsone nero che avete appunto salvato nel primo glitch di questo video quindi una volta che praticamente attererete a terra quando il personaggio si sarà per togliere il paracadute voi dovete semplicemente schiacciare su X per appunto selezionare il completo a cui volete passare diciamo il borsone e come vedete una volta che schiacciate X nel frattempo che il personaggio si toglie il paracadute una volta che si sarà tolto il paracadute avrà praticamente il borsone più diciamo il vostro completo salvato a cui appunto avete trasferito il completo o meglio il borsone nero e potete fare questo glitch quindi questo del trasferimento del borsone su tutti i completi che volete quindi una volta che praticamente avete duplicato il borsone su qualsiasi vostro completo vi basterà semplicemente andarlo a salvare e quindi una volta che l'avete salvato potrete appunto usarlo in free mode o comunque sia potete farlo dimostrare ai vostri amici quindi diciamo una volta che appunto avrete schiacciato X eccetera eccetera vi basterà semplicemente andare da un qualsiasi negozio di abbigliamento della città o comunque sia al vostro appartamento o ufficio CEO per appunto andare a salvare il completo e quindi insomma diciamo che è un glitch abbastanza figo e funziona diciamo anche con altri borsoni come ad esempio il borsone quello vecchio che vi portai appunto nella patch credo 1.32 comunque sia non ricordo ragazzi e vi lascerò comunque sia il video nella descrizione se siete interessati a vederlo anche se appunto il glitch non funziona più niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto come al solito ragazzi io spero di essermi spiegato bene ad ogni modo vi invito a commentare se non avete capito qualcosa ragazzi vi invito semplicemente a lasciare un mi piace a questo video per supportarmi vediamo se ce la facciamo ad aggiungere i 50 like anche per questo fantastico glitch meglio questi fantastici glitch visto che abbiamo portato due glitch in un solo video quindi ragazzi qua da Clicks è tutto io comunque sia vi ricordo ovviamente di seguirmi su Telegram, Instagram e Facebook dove vedete comunque sia tutti i link nella descrizione di questo video quindi ragazzi nulla io appunto vi saluto e vi ringrazio mi raccomando ragazzi lasciate un bel like spero che vi abbiano apprezzato questo video e ovviamente noi ci vediamo ragazzi al prossimo video bella wai tuuuu